bentornati siamo pronti per vedere un nuovo filtro andiamo ad aprire galleria filtri e quello di oggi si chiama matita colorata cominciamo col portare tutto a zero e ci rendiamo subito conto che nulla sta funzionando una cosa da cui possiamo cominciare è la luminosità della carta se la mettiamo a zero il foglio sarà nero se la mettiamo a 50 il foglio sarà bianco a questo punto possiamo aumentare la pressione del tratto e cominciamo a intravedere un disegno il disegno che è tratto dalla foto di partenza in questo caso stiamo lavorando con un foglio bianco ma possiamo anche lavorare su un foglio nero possiamo a questo punto agire sulla larghezza della matita per decidere la quantità di dettaglio che vogliamo e come è distribuita e poi possiamo anche decidere una variabile di carta intermedia anche se personalmente preferisco o la carta nera o la carta bianca magari non proprio a 50 perché altrimenti sarebbe un foglio irrealistico però diciamo tra 47 e 2 che è sempre un buon compromesso e questo effetto fondamentalmente serve a trasformare la foto in un simil disegno su un foglio di carta con un grado di luminosità di nostra scelta il risultato finale potrebbe essere qualcosa di questo tipo si vedono i dettagli delle pennellate è un effetto che può servire per realizzare poster da muro soprattutto per la stampa direi non è male vale la pena sperimentarlo grazie a tutti grazie a tutti